Rimangono pochi i luoghi in cui si può entrare senza Green Pass. Solo i negozi che offrono servizi essenziali come alimentari, farmacie, edicole, benzinai, ottici e mercati all'aperto rimangono fuori dalla nuova stritta del governo che dal 1 febbraio estende il Green Pass base ad una serie di servizi che per ora erano rimasti esclusi. Venerdì mattina è stato pubblicato il nuovo DPCM che lenca i negozi in cui si potrà entrare senza vaccinazioni, guarigione dall'infezione o tampone negativo nelle ultime 48 ore. Ci sono ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, ovviamente vietato consumare sul posto. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, animali domestici e alimenti per animali domestici, carburante, combustibile per uso domestico e per riscaldamento e articoli igienico-sanitari, incluse poi farmacie, parafarmacie, altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica e gli ottici. Il DPCM specifica che i controlli del Green Pass dovranno essere svolti dai titolari dei negozi e potranno esserci anche controlli a campione da parte dei responsabili dei servizi sanitari e di sicurezza. Dal 1 febbraio il Green Pass base servirà quindi per accedere a tutti gli altri negozi e ad alcuni servizi non ritenuti essenziali ma comunque molto importanti, ad esempio banche, uffici pubblici e tabaccherie. Grazie. Grazie.